aoe amici e non di lo zodi football è inutile tanto lo ripeterò sempre allora ragazzi avevo voglia di giocare se non gioco a pes 2022 cioè demo i football 2022 non so che mica giocare essi bene ok oa e aggiornamento del giovedì comunque come ho detto nel mio gruppo facebook che tutti scappano e tutti stanno scappando prima che il gioco esca il gioco non sta minchione di demon e fateva trovare un avversario il gioco io non so come cazzo spiega poi che cazzo generalmente ha fatto può forse le formazioni il gioco abbiamo vinto tutte e due ci facciamo dove si fa solo una cazzo di partita la maggio la stragrande maggior parte maggioranza dei twitch men giocatori della nazionale che si sono vantati in questi anni io qui io lì ma dove cazzo ve ne andate vol da bagan ma dosh a fifa ci mancherebbe altro ognuno gioca altri giochi cioè che sia che io lo voglio dire manca un attacco ognuno gioca a che cazzo vuole però se c'è non è ancora per per cosa poi coaching di fifa su coaching di fifa come vabbè detto questo oggi non saluto nessuno cioè i girati vedete a rete ne rimarrà solo uno diceva uno ne rimarrà solo uno sempre con ami va fa mox sempre sempre raga sempre io aspetto è vero io mi lamento castemo vedete come la morte da mamma che non ha la pagina ma io aspetto io aspetto aspetto l'undici novembre aspetto che esca mai club io avrò le mie difficoltà perché ho la ps4 non ci sono ps5 e comunque non me lo posso permettere comuni vi volete caccia è vero che siete scappati tutti a fifo state giocando a pes 2021 però io aspetto aspetto di vedere come sarà aspetto di giocarci aspetto di aprirlo di spacchettare di fammi la squadra di buttare veleno aspetto nel frattempo come avevo già deciso mi alleno mi alle quelle già pronto e chi se ne frega allora vediamo ben a debba alla blocciolo va madonna me la gioca meglio che non la commenti o sta figura di merda che abbiamo fatto gli e mamma mia nella che non la commenti ragazzi e merda ti muovi grazie bonus a mal quadra benta anche un guai a fare incolme chi head' morata mettiamo sì che tu sei pronto non me ne fotte un cazzo uno due non me ne frega un cazzo che sei pronto come te lo devo dire tre quattro cinque sei guarda guarda vai a fare un colpo guarda ok questo qui questo qui questo mediano e possiamo andare che figo di merda ieri mamma mia ripeto non saluto nessuno non saluto nessuno non saluto nessuno alle c'è i coglioni girati ce l'ho con qualcuno mi girano i coglioni su parecchie cose prima o poi faremo un bel dissing sto aspettando il momento giusto perché qua dobbiamo dare dobbiamo smuovere un po' la pagina dobbiamo poi cazzo rompetemi i coglioni ripeto la media di 500 visualizzazioni pochissime differenze dell'anno scorso ma ancora non mi scrivete gruppo facebook ragazzi lo trovate sulla mia home se andate a informazioni guardate come l'altra se andate a informazioni c'è il mio gruppo facebook giustamente ma chi cazzo avete ragione sono arrivati in massa lo spettacolo che offrono le due curve di poco eccezionale aia la vecchia signora del calcio italiano non viene mai e rimangi la parola abbiamo trovato un altro imbecille che vuole fare lo slalom gigante va spero te lo metto in culo subito ma guardate che fa la farla guarda quello che potrebbe essere il futuro protagonista dell'attacco spagnolo una prima una conclusione mamma mia quanto andate a giocare a fifa andate andate vi sto aspettando fifa ho il prossimo ufl che non zapi ma che cazzo è mamma mia mamma mia mamma mia un attimo io può anche essere che quando vedrò come cazzo sarà strutturato il mic club o il gioco o tutto il resto può essere si abbandonerò tutto può essere anch'io ma andare a fifa a leccare il culo a fifa cioè siete vergognosi giocatori della nazionale eh pagliacci pagliacci andrò io in nazionale a 50 sapete che non sto avendo noti ma stai scherzando sei serio sei serio sei serio vabbè a fare il pila con qualche altro ha cercato di arrivare in porta con prepotenza la difesa fa troppo a fatica ad arginarlo dovrebbero raddoppiare la malattura su di lui ma anche questo comporta dei rischi non mi tira ma vabbè io mi diverto che devo castivare dai devo fare 3 o 4 a questo dalla faccia di quelli che gente che ha gruppi di pes e critica il gioco giusta le critiche costruttive ma dico io nonostante hanno spiegato i motivi hanno detto che ci sono problemi hanno detto quando uscirà non è ancora uscito il gioco voi continuate ancora a buttare schifo merda su sto gioco che è giusto eppure io lo faccio ma io aspetti io ho sempre detto aspetto prima di giudicare aspetto aspetto la morte da mamma aspetto la bacchina da sorte lo stocco a distrutto cazzo che mi aveva salutato porca puttana avete ragione è come dire che da juventino la juve sta facendo schifo oggi non la devo ti fare più ma non esiste oh tiraggi oh tiraggi ma non esiste ma io non lo farò mai non scapperò mai dalla mia squadra del cuore mai 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 poi mai e poi mai mai e poi mai dove sta quello che devo salutare non lo trovo più vediamo vabbè raga non vi offendete non trovo chi devo salutare che invitiamo in privato raga se me ne scrivete sotto i posti o mi dimentico non mi dimentico non mi dimentico di prestigio ottima prestazione e dai questo si sveglia poi giù hanno scappate tutti poi conami che fa vera il caricolo a voi che siete dei traditori andate andate cioè posso capire che giocate ad alto giusto ma non fate post dicendo eh addio ci si vede io bella xia io bella xia ricevi in ottima posizione casa centro occhio la conclusione no vabbè cazza presa questo se ne va di nuovo vabbè io ti rimportano mo con bonus vuole far guau ma questo è malato no ma sei scemo proprio sei l'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio mette il turbo Locatelli riesce a resistere all'assalto dell'avversario c'è la palla lunga in avanti boh e qui prende chiaramente l'avversario dunque punizione traditori traditori della patria tutti siete scappati siete scappati tutti 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 mamma mia ripeto è vero noi approviamo e da no vabbè io ho da lui sono anche io il primo che critica sempre criticato il gioco ma non perché siete infognati che dovete spacchettare consumare i soldi c'è gente che ha criticato FIVA per anni è riuscito a passare ditemi voi guardate qua per anni e poi che fai coaching ma vaffangulo coaching di città vincita vincita fifa 20 21 22 perché la copp ingoglie 20 21 22 sprecato ma guardi nuova grandissima azione prossimo arrivo mamma o e tira devi tirare mongoloide tira Danilo la panone la panone vado quanto gli voglio fare la panone ma noi glielo faccio a giro tutti che scappano tutti che scappano io più che altro non potrò un cazzo quando c'è poi gran turismo quello nuovo che è un'altra delle mie passioni dalla nascita portano a quello non so che cazzo di giochiamo online contro altri andiamo a fare incidenti contro altre macchine contro altri utenti passaggio splendido una chance allarga il gioco con pallone a sinistra la mette dentro va di nuovo niente questo vuole giocare così sarà un coglione nato sarà boh scattando al momento avaggossi in aria niente proprio deficiente e non fisca la fine ma dove cazzo vai 47 ma vedi lo dico che schifo ma ci gioco non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa dovrà cercare di non ma è difficile che accada oggi è davvero in palla 2 a 0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità evidente iniziano i secondi 45 minuti è lì da una zocca ma imparla a giocare ma guarda con chi è lì ma che cacca mamma mi guardo ma ritirati vai tu andate ma sapete perché parlando seriamente dico la mia perché alla prima difficoltà sono scappati ma non si rispecchiano il loro stile di gioco e piace la cazzo vi piace andare veloci a 3000 perché non fate come faccio io che mi sto allenando a sto schifo perché tanto non sarà così è impossibile ci saranno ovviamente ricordiamo sempre è una demo e ogni anno ci sarà ragionamento non che cambieranno gioco vabbè io aspetto ripeto aspetto non faccio come gli altri sono molto polemico sì non mi state cacando non mi state più guardando vabbè pazienza di bala con una buona possibilità dove va il portiere a quella ma guardate ma dai ma togli ti coglione che non sia altro o ti raggi oltre che c'è sempre un becile che fa dei tutorial a voce a cazzo di cane dice minchiate a destra e a sinistra giusto per avere i suoi i suoi cazzi delle visualizzazioni ma to esci e ti sei arrivato la tira coglione coglione e io sono il primo che non sa giocare sto gioco ecco eh va più in profondità se ne va ma guarda guarda cerca spazio che lini attenzione ecco il tiro colchiero battuto ho lasciato andare raga sta facendo sul tanza è impressionante un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili tranquillo fare sul tanza fai fatto una sega pur e metti il dito in culo mentre ti fai la sega con la destra non so se sei mancino ti fai la sega col sinistro i metti il dito in culo coglione si ricomincia con un solo gol di scatto dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto ora devono puntare al pareggio da trovo a cio brutto da e bravo chi noti di fa bravo con le con le con il culo vesco la mamma due vabbè vabbè allora rivediamo il replay che dici eh no non lo vuoi vedere quittalo dai vabbè ma perché non riesco a contrastare la gamma ma come cazzo questo fa l2 della bacchina da mano non funziona proprio 3 a 2 ok ma scusi ma adattatore 3 a 2 3 a 2 guardate qua malonna mia e adesso ovviamente il distacco si riduce questo gol accende le loro speranze ora faranno tutto il possibile per la ritorno sbagliare di nuovo vedi ha portato scompiglio ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo qui c'è il chiaro fuori di poco sfortunati qui approvato ma niente fatto non si darà per vinto Fabio ci riproverà boh si fa avanti il territorio ma guarda no la gamma si apra poi c'è le volaggi cioè non è possibile io c'è uno sicuramente più forti di me ne avrebbe fatti già 4 boh come cazzo si apra difesa ragazzi ma la giocata è stata d'applausi boh tonalabrio c'è la direzione una centavarata schifo la partita un po' di la formazione già annunciate per altro quarto uomo per questo passaggio quantomeno discutibile provo a darla profonda nello spazio io ti rimposto, se ne è andato qua dalla porta e qui il portiere si supera ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva la smorfia sul suo volto guarda Fabio, dice tutto sull'esecuzione sceglie di andare per via verticale beh, nessun che va in aria morca la mucca cercano l'azione veloce Locatelli raga, qua spareggia, guardate non riesco a chiudere, raga mamma mia chi ha la muerta da mamma ma chi ha la mia muerta, mamma mia a questo punto del match non possono restare nella loro metà campo devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo ferma l'azione in modo falloso si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari tutte le mani, si fa la fa il direttore di gare è stato clemente ma secondo me gli sta dicendo questo è l'ultimo amico mio chiellini passaggio sulla destra Locatelli sceglie di andare per via verticali e la sostituzione veloce e che è sparita la gara non c'è più voglio fare il cambio veloce non c'è più guardate ma chissà che cazzo staranno sminchiando questo ma vabbè la mette in avanti è peccato non ci arriva prova a cambiare la soluzione con una giocata in avanti ma dà una volta la palla a uno una buona fase offensiva è la miglior difesa fungendo così tengono il pulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore boh pallone troppo profondo se ne va oltre la linea Locatelli fa le cose per bene tutti scattato oggi metto morato morato quadrato tre quartisti va sostituzione per la Juventus c'era movimento in panchina finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister sostituzione comprensibile sembrava molto stanco meglio far entrare un giocatore fresco guarda trago e dai però iniziativa promettente ma gli avversari hanno fatto buona guardia ecco Di Bala Di Bala e il pallone sorvola la traversa vabbè di nuovo vabbè pallone interessante in verticale la difesa deve interpretare quest'azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la concentrazione come l'hanno sminchiato dall'altro giorno oggi pallone dopo una lettura magistrale ma vabbè 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 guardate come cazzo corre a questo rischio dell'arbitro c'è i miei non corrono così guardate non so che cazzo di tasti usa questo grandissima lettura riconquista il pallone tenta la traversa ma non è finita la conclusione va bene andava a beccanata a Versailles ma non c'è schifo beh e vabbè ciao e va bene ciao va bene ciao ok grazie usciamo entriamo vai ciao e si accettiamo sto leggendo le puttanate che non posso dire di qualcuno vabbè noi continuiamo a giocare va bene ho lasciato proprio il mio ex gruppo in certe mani mamma mia fatemi stare zitti che è meglio non voglio arriveranno i momenti dei dissing ma non sulle non parlo sulla sulla persona privata cioè nel senso soggettiva parlo sempre parlando sempre del gameplay eh come vabbè ognuno fa le sue scelte mamma mia dai sempre contropiede e andiamo a vedere come sta benadeschi sta bene culo seschi o come cazzo se c'è un malam a fangolo mettiamo di bala centrocampo stanno tutti scattati ma faccio giocare rougani a buonù vabbè 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 non affanculo va meccino ma per tu però meccino 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 centrocampo minchia tutti scattati stanno ma 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 sì Ramsey dai giochiamo così chi se ne è forte più su più su vai spacchiamo il mondo salve amici un caloroso saluto a tutti voi le previsioni mete avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato cielo sereno e terzo stasera nemmeno l'ombra di una nuvola condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici i giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere questo non lo so no cazzo italiano a un altro che se ne vuole andare il palle tutto in bocca vediamo se vabbè facciamoci una ragione gol a tutti i corsi sto beccando la gamma veramente fate beh questo è un passaggio quantomeno discutibile ci prova con un pallone profondo il portiere si oppone gol ahhh no non ci credo non ci guardo a credo è un'occasione oh ma cazzo si tira di colloquio quest'anno oh il giro come meglio non era facile ma quando una conclusione così va dentro diventa un euro goal peccato ok Giorgione la gioca a sinistra prova la soluzione in fascia eh no così il cross ma Bernardo è la multa da tante devo fare al giro dai sembrava aver sorpreso il portiere come sto qua 4-2 così mi gusta ok bravo Rams dagli da lui si non riesco a segnare oh ma porca puttana maia la zocca l'incalore oh ma vabbè non me ne fai dare i play perché? beh mi come so ma perché non me lo cambio il giocatore sulla fascia ecco di bala morata vede lo scatto e cerca la profondità guarda la merda e c'è il gol della Juve prima rete per la Juventus aggressività e verticalizzazione può sembrare semplice ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica 1-0 dunque sono passati in vantaggio la Roma ha il calcio di punizione punizione perché? ma ma boh ma boh forse da qui è un po' lontano ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori nello spazio per Mkhitaryan un intervento impeccabile no ho sbagliato ma andiamo saliamo dai dai peccato e dai guardate ma mi state prendendo per il culo vera me boh cioè vabbè un recupero provvidenziale vabbè sicuro qui l'intervento del portiere sceglie di andare per via verticali deve solo tirare rubare palloni così ma dai ma mettila bene niente prova a fare tutto da solo all'idea oh cazzo ma si lutto cazzo mamma mia che gollo vai sul tanza vai sono già scappati via avversari in difficoltà grande colpo di testa rapido preciso ottimo questo colpo di testa preciso ed efficace ma ben quest'anno scappare sul tanza non so fare se ne è andato già ottimo se ne è andato acquittato 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 beh no? ah no ok chiedo scusa dai no 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 tranquilli tranquilli è colpa mia è colpa mia tranquilli è colpa mia tranquilli non è colpa di nessuno colpa mia stavo vedendo il telefono guarda come cazzo ai dana gioca anche sta solo guarda andiamo a qualsiasi un'altra vuole la profondità può tenere una volta da lì chance per tirare bello bell'ottimo tentativo beltre è un su cazzo è un'occasione ghiotta Fabio non ha trovato la va bene va e va bene va bene va bene va bene va bene va bene così ragazzi schi tanto aspettiamo l'uscita di mic clap per avere la profonda nello spazio ok vai è soltanto un quadrato vediamo e va bene va bene va bene va bene va bene va bene così vediamo vediamo non lo vuole vedere più beh e poi non giochi se gli avversari stavano riacquistando fiducia questo gol grazie no nico così devo capire come cazzo si difende raga perché un po' riesco e altre volte non ci riesco dai andiamo a fare l'altro gol inondropilla oh tiraggi minchia che cazzo sbaglia un'altra occasione sprecata davanti al portiere alla lunga questi errori potrebbero rivelarsi sanguinosi Bernardeschi di forza ci prova con un pallone profondo colpisce eccellente parata di Daniel Fusato è un'altra occasione che vola via hanno avuto diverse occasioni da gol ci sono andati ripetutamente vicini dopo il fanno la copertina andiamo indietro no 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 fa avanzare l'azione con il lancio lungo schiacciare i piedi sull'acceleratore se ne va se ne va ragazzi devo chiudere il video e passa tanto anche se la vince la pezziamo sempre là non succederemo devo chiudere il video perché mezzo da fare mezzo da fare il vantaggio di due reti è meritato direi finora hanno utilizzato un piano di gioco molto ordinato e se dovessero continuare così il margine attuale potrebbe aumentare ancora di più 3 a 1 e siamo nell'intervallo una partita divertente scritta articolo e quindi ancora in qualche modo aperta devo chiudere il video non ha qui taci tu e tu no e l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco vede lo scatto e cerca la profondità situazione spinosa ma il suo intervento è stato providenziale ah no, non ha me che butto giocare così ci prova con un pallone profondo colpisce dai quinta ti prego comincia a fare il 20 go niente il divario tra le due squadre morata giocala come cazzo che ti devo dire oh ballone interessante in verticale interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa e il portiere la fa sua boh zagnolo ragazzi cazzo devo fare un po' di melina ruggani ruggani ma non so che fa raga che cazzo gli vado a segnare a questo non sa fare neanche due passaggi vabbè di subito in gol ora non devono chiudersi in difesa ma insistere per incrementare il vantaggio attenzione regalo del portiere fango intercetta il pallone dopo una lettura magistrale ma boh andiamo a salire all'altro vabbè c'è non c'è neanche da commentare devi dire cosa devo commentare raga ma che cosa cazzo cazzo se ci si devo oh mamma un attimo boh prova a illudere la marcatura grande intervento vale come un gol sfida di qualità con il punizio della chiave davanti dai 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 facciamo un altro gol e mandiamo la cacare questo niente dai sto facendo io lo scemo dai pallone recuperato con autorità non si lascia abbindolare recupera palla mizca che lancio sulla fascia in profondità prova a darla profonda nello spazio qui deve tirare gol non sbaglia sono protagonisti di un dominio incontrastato lasciato indisturbato non sbaglia l'appuntamento con la rete questo parte è un tipico gol ma in nervosismo un tifoso certo movimento e finalizzazione sono stati pannolino bambino abbiamo preso abbazzo che gol l'esultanza dai non mi fare il non fa il deficiente dai etta non fare il deficiente la bacchina da mamma che da cularo che da cularo da mamma la palla sembrava incollata ai suoi piedi non riuscivano a levargliela no che cazzo vedi andate avanti approvata tutto questo fatto che si spompano sul giocatore sessuali non so capi come fanno questi va ma lo faccio io dai ma l'istante riesce a rubare il pallone schifo totale ottima progressione palla al piede ma tanto so come cazzo frega mai basta studiarvi poco e vi frego facilmente dai dai te ne avrei fatti dieci dai mi sono contenuto dai 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 scappate 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 dai la giro tira al cida da cazzo ma frega max fa una conclusione splendida faccio un altro temando a fare in mano ma io faccio una partitella d'allenamento sceglie di andare per via verticale e movite la bacchina davanti konami sempre la bacchina davanti ciao a tutti ragazzi alla prossima